Il contratto preliminare di cessione dell'azienda Italia One Bao ACC di Borgo Valbelluna della Sest Gruppo Luve, siglato oggi a Mel, suscita reazioni diverse in ambito sindacale. Chi aveva sottoscritto l'accordo come CISL e UIL reagisce comunque positivamente. Finalmente è arrivata la firma del preliminare per l'acquisizione di ACC da parte di Sesto, o quantomeno dei lavoratori per l'inserimento nell'organico e nel perimetro di Sesta. Soddisfazione come organizzazione sindacale e firmataria assolutamente sì, non di certo festeggiamenti o comunque dell'euforia perché ricordiamo che ci sono circa 80 lavoratori che oggi non hanno nulla da festeggiare, quindi sono quelli che non sono compresi appunto nell'operazione. Diversa la posizione di CGL che non aveva firmato e che preferisce non commentare ritenendo insufficienti le soluzioni occupazionali messe in essere. Una volta di più comunque l'attenzione si sposta su quegli 80 lavoratori che non rientrano nel piano aziendale. Adesso oltre la soddisfazione dobbiamo assolutamente rinnovare quello che è l'impegno preso nel ricollocare tramite la task force così come da accordo appunto siglato ad aprile l'impegno a ricollocare, a dare una speranza, a dare un lavoro a queste persone che comunque ieri e l'altro ieri hanno dato come sempre, come già sapevamo, prova di maturità, di responsabilità firmando i famosi 411. Alcuni di loro, peraltro, potranno essere riassorbiti in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei 150 riassunti e in questo senso una decina di casi si sono già verificati.